Buongiorno, buona domenica 2 luglio, benvenuti all'appuntamento quotidiano con la lettura dei giornali, tra poco andremo a vedere come aprono per l'appunto i quotidiani oggi in edicola, naturalmente il tema principale, quello ancora dibattuto anche perché gli sviluppi sono tuttora in corso, è relativo alla situazione in Francia, una situazione di alta tensione, le proteste scoppiate dopo l'uccisione del ragazzo del 17enne Naella di origini magrebine da parte di un poliziotto, hanno raggiunto livelli preoccupanti al punto da indurre la Presidente Macron che doveva affrontare un viaggio in Germania ad annullare questa missione per appunto tenere sotto controllo una situazione che anche nella notte scorsa ha fatto segnare momenti di altissimo nervosismo, scontri, ci sono state altre centinaia di arresti e poi il dato che risulta dai fermati che sono ormai quasi 2000 complessivamente, compresi quelli di questa notte, è che si tratta di giovanissimi, addirittura tra i 14 e i 17 anni. A proposito dei 17 anni, ieri il GIP ha convalidato il fermo dell'assassino, del presunto omicida di Michelle Causo, la ragazza di Prima Valle a Roma, il ragazzo ha fornito la sua versione secondo la quale Michelle gli avrebbe venduto della droga e pretendeva il pagamento, ma insomma è una versione questa che è al vaglio degli inquirenti. Poi in Ucraina, in Ucraina si continua a combattere, soprattutto nella zona di Kerso, c'è grande preoccupazione da parte del Presidente Zelensky per la centrale nucleare di Zaporizia che a suo dire i russi avrebbero minato per farla esplodere prima di eventualmente ritirarsi e questo è un problema naturalmente che non riguarda solo l'Ucraina perché stiamo parlando di una centrale nucleare. Ieri a Kiev c'era Pedro Sanchez, il premier spagnolo, che ha voluto fare questa visita però è il primo giorno di presidenza spagnola in ambito europeo. Andiamo a vedere allora il Corriere della Sera, come vedete eccola qui la fotonotizia che ritrae questa ragazza che viene portata via dai poliziotti, dai gendarmi francesi, sciocchi in Francia, 17 anni, l'età media degli arresti. Ancora tensioni in Francia, mobilitati 45 mila poliziotti, annanteri, funerali di Naella, arrestati 1300 manifestanti, l'età media di 17 anni, vi dicevo appunto anche nella notte quasi altre 500 persone sono state fermate dalle forze dell'ordine francese. Ancora dal Corriere della Sera Salvini, patto scritto per il centrodestra, tutti uniti in Europa, l'intervista al leader della Lega, hanno che vice premier, vedrò le penne e battaglie comuni. Noi con il Partito Popolare Europeo non escluderemo nessuno, migranti meloni dopo il vertice dell'Unione Europea, ma che paralisi è una svolta, torna sul veto di Polonia e Ungheria. Poi il caso legato a Vittorio Sgarbi nella giornata che inaugurava la stagione estiva del Maxi, il museo del ventunesimo secolo di Roma, insomma lui ha tenuto un discorso dalla palco e si è lasciato andare ad alcune considerazioni definite sessiste, ma soprattutto insomma volgarie ed estemporanee. voli, biglietti più cari del 50%, convocate le compagnie aeree, il garante per il monitoraggio dei prezzi appunto vedrà i rappresentanti delle compagnie perché questi rincari erano in qualche modo giustificati dall'aumento del prezzo del cherosene, ma il carburante come scrive anche appunto il Corriere della Sera è calato del 22%, si muove anche il governo, è intervenuto anche il ministro D'Urso, all'assassinio della ragazza, la GIP, Michelle voleva i soldi e io ho preso il coltello, soldi, poi si parla di 20-30 euro, insomma se si può reagire in una maniera del genere, se può tutto questo essere generato da un debito di tale portata, ma a prescindere insomma. La Repubblica, il fronte del salario minimo, lotta alla povertà, l'iniziativa congiunta dell'opposizione trova il consenso della CGL per Cisle Will, però bisogna fare riferimento ai contratti. Calenda, ho chiesto alla Premier di riceverci per discuterne, ma la ministra Calderoni chiude, non si può imporre per legge. Ricordiamo insomma questo campo largo dell'opposizione dal quale si è sfilato però Italia Viva di Matteo Renzi, proprio per affrontare e risolvere il problema del salario minimo. Francia, il richiamo in Repubblica, morte di Naella, 1.300 arresti, non fermano le rivolte con Cittade Gregorio, interviene sul tema, integrare e istruire quei punti oltre la violenza. Piante dosi, via al piano rimpatri per Ivoriani e Tunisini. Ancora qualche secondo per vedere come apre la stampa, vedete scontro sul salario minimo, no del governo, alla legge, Calderone e Bolcia, la proposta ai PD e 5 Stelle, meglio intervenire sui contratti, distingo del sindacato, il PD insiste, retribuzioni adeguate per tutti e poi in taglio alto, neghetti neri della Francia, in fiamme. Pubblicità, ci fermiamo e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa, fra poco. C'eravamo lasciati sulla stampa, ci siamo ancora, volevo segnalare l'editoriale del direttore Massimo Giannini, l'Europa, Parigi è una premier che non vuole nemici a destra, l'editoriale di Giannini analizza appunto quello che è successo in ambito europeo che ha visto protagonista alla premier italiana. Il racconto di spalla di Francesca Fagnani, Meloni e Schlein, venite a fare un giro nei Bronx d'Italia, deletante Michelle, questo è l'invito appunto rivolto sia alla Meloni che alla Schlein. Allarme e sicurezza, scrive il giornale, la Francia fa paura, ecco il piano italiano, ancora scontri e sacchetti oltre Alpe, la ricetta ai piantedosi e Nordio per aumentare i rimpatri ed evitare il contagio. Molteni e Parigi lo dimostra fallito il modello porte aperte. Ancora ora basta buonismo di Francesco Maria Del Vigo che interviene ovviamente sul tema migranti. Come superare lo stallo e gli errori del passato? Si parla ai PNRR, ieri ha parlato il ministro appunto Fitto, Fitto che sblocca il PNRR e lancia l'operazione Realismo. Il governo ridisegna il piano, il confronto con la burocrazia dell'Unione Europea. Polemica sulle parolacce alla Maxi, Sgarbi, l'arte trasgressione, censuriamo Mozart e Pasolini, si chiede appunto Vittorio Sgarbi. In taglio basso, una notizia, insomma ieri era attristato il mondo dello sport, ma non solo, la scomparsa a 68 anni di Vincenzino D'Amico, bandiera della Lazio, di quella Lazio folle romantica nel 73-74, vinse il titolo italiano, lo scudetto, la Lazio di Lenzini, Chinalia, Rececconi. Il fatto quotidiano che prosegue sulla sua linea editoriale occupandosi praticamente in maniera quotidiana del caso Sant'Anche, Sant'Anche Connection, apre così oggi il fatto, visibile ai protettori dalla russa abbriatura Bisignani, Principe, Farlocco, Gli Asburgo, Lorena, difidano Dimitri Kunz, compagno socio della Ministra. Siamo 516 e nessuno lo conosce. Verso la resa dei conti del 5 luglio, il Senato Meloni fugge dal dibattito e vola in Polonia, dubbi fra PD e 5 Stelle sulla mozione di sfiducia. Ricordiamo appunto che la Ministra del Turismo, Daniela Sant'Anche, riferirà su questa vicenda che riguarda le sue attività imprenditoriali mercoledì prossimo in Parlamento. Corruzione a palazzo, scrive Libero, il racket dei migranti, compriamo i politici. Un deputato denuncia che i trafficanti di uomini offrivano 120 mila euro al mese per aiutarli a dare il via libera a visti da vendere in Asia. Caro Sgarbi, non il nostro nome, scrive Luca Beatrice in questo lungo fondo che affronta il tema lanciato dagli interventi e dalle dichiarazioni con frasi ritenute sessiste, tant'è che il personale femminile del Maxi ha scritto una lettera al Presidente Giulia per manifestare la contrarietà in relazione a quanto detto da Vittorio Sgarbi. Caro Sgarbi, quindi non il nostro nome, è quanto rivolge Luca Beatrice. Mediaset lascia la D'Urso, il divorzio del secolo, c'è tutto un rimestio nelle TV italiane a livelli di conduttrici, conduttori, insomma la D'Urso pare debba così concludere, concluderà la sua avventura in Mediaset. Siamo al Sole 24 Ore, acqua fanalino dell'Unione Europea, servono investimenti, fondi insufficienti e carenze del PNRR. C'è un'inchiesta del Sole 24 Ore perché l'Italia ha le tariffe più basse, ma la rete perde il 42% e la gestione è frammentata in tempi di siccità, insomma di allarme mondiale, non è certo una notizia da sottovalutare. A Firenze i tesori della Terra Santa, in Francia oltre 2.000 arresti e più di 800 negozi saccheggiati. È già perché c'è poi da fare i conti con i danni che sono stati causati da queste proteste che non hanno riguardato, non stanno riguardando soltanto Parigi, ma anche Lione, Marsiglia, altre città francesi. Avvenire la rivolta dei ragazzi, scontri saccheggi, alta tensione in Francia, 30% dei fermati e minorenne, già schierati 45.000 poliziotti, migliaia alla sepoltura del giovane Nahel, ucciso dagli agenti e Macron posticipa il viaggio in Germania. Ancora da avvenire, Kabul donne spulse, si inventano l'impresa e poi avvenire ci ricorda il caso, insomma Bologna va a 30 km orari, parte l'esperimento tra applausi e proteste. Primo giorno di traffico lento in città, il limite è stato abbassato a Bologna da 50 km orari a 30, insomma questa cosa ovviamente divide. Siamo sulla nazione, caos senza fine, Macron sotto assedio, Francia sacchegge 1.300 arresti e la rivolta dei ragazzini, un manifestante su tre minorenne, presidente rinuncia alla visita a Berlino, intervista al politologo Meni, così cresce solo le penne. Guardate questa bella foto, la nave Amerigo Vespucci, buon vento che è l'augurio tipico in ambito marinaro, salpa per il giro del mondo in 20 mesi, orgoglio nazionale sarà ambasciatrice del Made in Italy, insomma questa almeno è una bella immagine, è una bella notizia con le frecce tricolori che appunto hanno sorvolato il veliero. Siamo sulla verità, la Fonderlion chiude ancora accordi con Pfizer, la pandemia non c'è ma compriamo bacini. Malgrado l'indagine sui messaggini con la D e Albert Bourla, Ursula impegna la commissione, cioè noi, con i colossi per produrre 325 milioni preparati all'anno tra mRNA e altri, però non si sa per quale virus, questo è quello che denuncia oggi la verità. In taglio alto le banlieue si armano, la Francia brucia, Macron deve rinviare il tour a Berlino, Marsiglia e Lione devastate dai saccheggi, feriti con armi da fuoco, sette agenti, Francesco Borgonovo, Lampedusa scoppia, fermare le partenze da Tunisi subito o finirà così pure qui. Questo è quello che appunto scrive Borgonovo, vice direttore della verità sul quotidiano per l'appunto oggi in edicola. Il tempo, caos francese, nazione in fiamme, continua la protesta nel paese, scontri fermi a Marsiglia. Salvini, risultato di errori nel gestire l'immigrazione, Tagliani ha esploso il malessere dai gira gialli alle pensioni con Macron record di manifestazioni in piazza. Effettivamente la Francia è al centro dell'attenzione internazionale da diversi anni per una serie di proteste, proteste anche piuttosto lunghe e piuttosto, in taluni casi, anche violente. Il tempo di Osho, disastro slide nel PD, crollo dei consensi sotto il 20%. Poi in taglio basso, voleva i soldi e l'ho accoltellata, il caso di Prima Valle, convalidato l'arresto del 17enne, accusato del delitto di Michele, ricordo di Dio Vincenzino, d'amico eroe del primo scudetto, Lazio in lutto. La gazzetta sportiva, supplemento, giuntoli parte forte, il nuovo DS della Juventus, Berardi, Lampo, Juve, Verstappen che sprint, riprova C'è il Leclerc, oggi si corre in Austria, il gran premio sulla pista di Zoltweg. Ci fermiamo qui, è arrivato il momento di dare la parola a Paolo Sottocolona a seguire la prima edizione del TG La Sette. A te Paolo. Sì, buongiorno. Questa è la situazione delle piogge previste per la giornata di oggi, molto attenuate, troviamo qualche traccia al sud, al centro, soprattutto sulle zone interne. Al nord c'è qualcosa in più, in maniera molto isolata sul Piemonte e sulla Lombardia e poi c'è questa piccola zona, proprio a confine fra Veneto, Lombardia e Trentino, in parte anche l'Alto Adige, dove questi fenomeni potrebbero essere un po' più frequenti, ma sono sempre piuttosto isolati, non sono vaste zone di maltempo, sono proprio uno qui e uno là, come osa dire. Vediamo la giornata di domani, perché questa instabilità al nord si intensifica, questi fenomeni diventano un po' più frequenti, scendono anche sulle zone di pianura, non è un maltempo marcato, ma vedete per esempio in Lombardia, sul Friuli Venezia Giulia, sul Trentino Alto Adige, delle zone un pochino più ampie di fenomeni intensi, ci sono, quindi l'instabilità si fa vedere, si fa sentire. Poi scendendo in pianura e passando sulle zone del centro, a parte una piccola zona sull'Umbria, qualche debole pioggia nel pomeriggio, ma oltre questo non si va, qualche annuvolamento c'è sicuramente, e questa volta si affaccia anche al sud. Poi nella giornata di martedì l'attenuazione di questi fenomeni al sud e al centro è abbastanza marcata, non ce ne sono molti anche lunedì, però martedì ce ne sono ancora meno. Invece il nord, vedete gradualmente, il nord-ovest piogge deboli, sulla parte centrale moderate e la parte orientale anche forte e questo vale anche per la pianura, quindi non è una situazione quella tipica delle piogge del pomeriggio, c'è una zona di instabilità, poi vedete i fenomeni anche al di là dell'arco alpino, quindi passa una zona di maltempo. Vediamo le nostre minime di questa mattina, sempre su valori non altissimi, va detto, guardate come la temperatura del mare è più alta di quella della terra, il colore va verso l'arancio, però sono valori sostanzialmente stagionali. Lo stato dei mari vede piuttosto tranquilli soltanto l'Adriateco settentrionale, il Tireno settentrionale, poi facilmente sono mossi o molto mossi i mari, specialmente vedete i canali fra le isole maggiore e ancora una volta a ovest, fra Mare di Corsica e Mare di Sardegna, quella zona in rosso che significa mare agitato, che non è poco, insomma le onde possono raggiungere anche i 4 metri. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale. A più tardi.